Corale di senso degli enti locali di Valtellina e Altolario verso la decisione della Giunta regionale di trasferire a Pavia il direttore generale di ATS della Montagna, Lorella Cecconami. A farsene portavoce il presidente della provincia Elio Moretti, che parla di una scelta inaspettata e repentina, soprattutto per il momento in cui viene compiuta. In un periodo storico congiunturale come questo, immersi ancora nella gestione della pandemia di Chiara Moretti, cambiare il vertice di un organo così importante per il funzionamento della sanità locale come l'ATS, è veramente poco oculato. Non solo perché in questi tempi Cecconami ha dato prova della sua competenza e disponibilità al confronto con gli amministratori, ma anche perché conosce la realtà del nostro territorio. Il numero uno di Palazzo Muzio elogia la grande esperienza e la trasparente fermezza con cui il direttore generale di ATS ha affrontato la pandemia senza perdersi nei rivoli dell'inutile burocrazia. Nulla contro il suo successore, conclude Moretti, al quale assicuriamo disponibilità al dialogo istituzionale, ma ribadiamo che un cambio al vertice di una macchina così complessa non è la scelta più opportuna.